Pronti Ok, sei pronta? No Ok, tanto Giorgi Ciao ragazzi, oggi mi taglio i capelli perché mi sono rotta Ok, è un po' di giorni che Lara vuole cambiare di nuovo look No, mesi Mesi addirittura? Dai, abbiamo fatto la frangettina da poco Come va con la frangetta? Non mi ha male Ti sei abituata? Sì, mi sono abituata Ok, però questi sotto sono cresciuti troppo Esatto, perché ci potrebbe essere il contrario Ah, vorresti cambiare la crescita in quella della frangia? Sì, così pelata Comunque adesso rifacciamo un pochettino il taglio Of course Abbiamo visto un po' di tagli, anzi abbiamo fatto anche delle domandine su Instagram a voi Per capire quali preferivano su di Lara Ma tanto decidiamo noi Ok, adesso niente, vedrete come va Buona visione Se guardate, ho gli auricolari Mi stanno dicendo quello che devo dire in video Scherzo Allora, andiamo a fare le sezioni Ci partiamo da quelle dietro Allora, guarda Allora, come? Sì, questi qua Questa è una sezione Sono quelli che faranno la parte workout che fanno davanti Comunque, c'avevi pochi capelli da piccola Sì, perché? La quantità dei capelli è infinita Ora voglio pochi capelli perché mi danno fastidio Beh, lui qua ti facevo la treccia con tre capelli Un capello per ogni pezzetto E poi facevo nini nini Fatto vedere con treccine così piccole Tutti i capelli Adesso invece, qua Ci deviene La cult La cult Junjin cult Junjin cult Tu dici che ti bisogna accorciare Sto qui Mi senti? Eh? Sto qua Allora Così Ok Guarda Vediamo così Sì Sto già per il pezzettino qua Sì Ok Giù, guarda giù Mi senti solo tra pugni Ancora un po' Sì Ok Leggermente Stavo tagliando l'anello Aia Ok Perfetto Ok Grazie. Ti piace il fatto che qualcuno si faccia il tuo taglio, che ti dicono che ci stai bene? Grazie. È bello, vero? Grazie. Allora, questi fanno... Ora con un pezzo come siamo, va bene? Va benissimo. Giusto? Ok. Non so, dicevi, ho troppa parte! Prima parte vi ero fatta. Ora andiamo a farci un pochino tutti davanti. Oddio. Corciamo quanto? Allora... Proviamo qualche centimetro, mi farei così. Sì. Allora, wait, allora... Ma pure di più direi. Sì. No, taglio tanto, taglio sopra, taglio qua. Ah, ok. È tanto, però? Ah, ok, allora... Vabbè, scendo poco poco, taglio qua. Va bene? Sì, qua. Vediamo tre o quattro centimetri. Tanto poi sfidiamo tutto. Pronti. Sto prendendo, che... Chorgo. Questa. 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 Que bellissima. Vabbè, guai un pennello. guarda ferma 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 ah fuck you g g only one off oddio che belli così oddio yes ah no frangeretti ok si va bellissimo aspetta coriandolo finito il risultato e qui dietro di me potete vedere Lara la vedete? guardate come sta bene fresca con i capelli insomma così dove? svetlana ah no scherzo giro la telecamera siete pronti a vederla? no che non siete pronti due uno mano e tadaaa eccolo qui allora fai il 360 così se ce lo chiedono già possiamo dire esatto e questo è il nuovo taglio di bimba allora la frangetta c'era già e quindi lo sapete eh questa è la parte nuova di wolfcat ha voluto avete visto che ho fatto due volte il taglio quindi l'ha voluto piuttosto corto quindi è al così al naso scalati sotto è stato mantenuto un caschetto però è stato tutto guardate cioè ci ho messo una vita a farlo questo taglio perché ho sfilato a mano ciocca ciocca eccolo qui il gioco del scalatura si vede facendo così eccolo quindi c'ha questa parte che va su così e questi sotto quindi se adesso ce li ha pettinati chiusi così bombati quindi ce li ha lisci esatto e sembri molto posso dirlo molto bongyu il vecchio taglio di bongyu sembra quello di zero for one love song esatto e mentre se invece li dovessi pettinare fuori faresti assolutamente saibyok quello è il taglio sì tantissimo quindi in base a come li mette cambieranno qua sopra il gonfi e sotto lisci e sotto lisci ok adesso sono lisci tutti io volevo provare a fare questo ma soltanto che praticamente piacciono anche mentre ce l'ho caprice beh ho detto vabbè tutti lisci esatto quindi comunque sia in base a come gli asciughi cambieranno sempre in forma sei contenta? yes ti piacciono? mi piacciono molto spero che piaceranno anche a voi vedo che amate molto i tagli di Lara soprattutto ti sta veramente cioè con il tuo visino ci sta proprio bene lei voleva togliere tutta questa parte appunto che era qui sotto esatto fino qua mi arrivava basta esatto mi ero rotta perché in più mi stanno spawnando i capelli che vuol dire? ne ho tanti ultimamente è vero l'anno scorso ero velata è vero era da piccolina quando ero piccolina aveva sempre i capellini radi non pochi perché pochi tu non ne hai mai avuti però erano no erano fini 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 sottilissimi quindi veramente erano adesso invece sono diventati una marea e qui sono sempre sottili però sono tantissimi e quindi adesso c'hai molta più massa bello mi piace ci stai bene sono contenta spero che vi sia piaciuto questo ennesimo taglio di Lara continuerai a tagliarli? o basta per un po'? continuerò a tagliarli e poi diventerò come svetlana va bene ok grazie per aver visto il video mi raccomando se vi va mettete like continuate a seguirci ci vediamo con altre cose carine ciao 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 ciao